0,7 e 58 per Valeria Ruffino che ha preceduto Zussman, rimane fuori comunque. L'ultimo tempo buono per il ripescaggio è i 10, 0, 0 e 48 di una antica forte, Cristina Cassandra, la romena Valentina Nibali. Non malvagio. L'azione è buona. Un lancio sui 55 metri, 54. Forse leggermente teso, l'angolo di uscita potrebbe salire di 1-2 gradi. 57, 73 il suo primato, siamo attorno ai 54 e per la ragazza diretta, no, 53, 60. Il settimo posto è il settimo posto complessivo. Qualificati in 15, Valentina Nibali. la Reatina, 53, 60 e toccherà a lei tra poco. Eccola qui. Per il dodicesimo posto è proprio suo, 53, 60. 53, 82 e si conquista una posizione. 54, 01 e se ne conquistano due. 54, 22 e vediamo. No, è più corto questo. Chiediamo il suo 53, 60 di prima. Sono arrivate nel frattempo, Franco, i risultati che avevamo già letto. Quelle delle siepi, dieci minuti, era ancora un tempo buono. Eccola qui. 3, 3, 2, 3, 1, è più corto anche questo. E la Reatina è proprio sul confine. 53, 60 è l'ultimo risultato utile per la qualificazione. Grazie.